ragazzi fine dello shooting finalmente cioè sono stanca morta sono sfinita tipo però va bene così ciao ciao a tutti altro altro praticamente vedete tutte le anteprime dei tutorial che vedrete in futuro vabbè comunque ciao che cosa avete fatto in questi in queste ore e mezzo che non ci sentiamo ciao 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 tutti che dovete fare matematica ragazzi ma che palle guarda non vi video per niente matematica io la odio tipo ho appena finito di registrare anche questo tutorial e quindi siamo pronti perfetto possiamo togliere tutto questo baccano immenso questo casino infinito e quindi va bene ciao alice ciao 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 e adesso poi dopo vado in agenzia deve in agenziale ti porti dietro tutto te vabbè allora non lo so dove vado e grazie ma se che carini che siete è vero che è figo sto rossetto che per realtà non è un vero e proprio rossetto ma è una matita per labbra con una tinta sopra molto molto figo quando esce quel video con baglio presto non vi posso dire quando anche perché non so quando ma esce sul mio canale perciò se siete iscritti al mio canale vedete prestissimo il video con baglio baglio in smoking quindi lo dovete vedere per forza cioè obbligatoriamente capito stra obbligatoriamente ciao ciao alice ciao a tutti ciao 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 e voi che cosa avete fatto oltre ai compiti che tutti avete fatto i compiti sono stati bravissimi grazie eravamo bellissime nella foto lui era era veramente figo in smoking va detto proprio ciao aurora ciao e basta io vi volevo soltanto no non è un eyeliner in gel un eyeliner in penna che io amo amo gli eyeliner in penna tantissimo perché sono facilissimi da applicare mi piacciono un sacco letteratura russa mamma mia ciao amici madonna non vedo l'ora di chiacchierare tantissimo con con voi del tipo forse stasera faccio una periscope un po più lungo un po più lunga jesse j tutti mi dicono che sembra jesse j ma davvero a me non mi piace tanto lei esteticamente vabbè comunque ragazzi devo sistemare tutto cioè guardate che casino immenso devo sistemare tutto quanto tutto quanto quindi vabbè perdonatemi ma devo sistemare tutto ti volevo soltanto salutare tantissimo e ci vediamo prestissimo stasera ad esempio vi va stasera magari ci ribecchiamo un goccettino chi ti piace di cantante michele bravi solo michele bravi no scherzo vabbè beh scherzo per modo di dire in realtà io sul computer sul mio mac ho solo due cd uno è i hate music e uno è this is it di michael jackson perciò effettivamente è vero che mi piace solo michele bravi tipo vabbè a parte questo ci vediamo stasera allora va bene non so se prima o dopo scena comunque ariana grande tantissimo l'avete vista il david letterman quando fa le voci degli altri cantanti cioè lo adoro va bene ragazzi niente e si stiamo tutto quanto ci vediamo poi stasera facciamo un'altra la un'altra la periscope va bene mando un bacione enorme 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 ci vediamo stasera ok ciao a tutti ciao 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 e di nuovo ciao 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 che non funziona e invece ce la fai